Ciao bellissimi, sono lieto di annunciarvi quest'ultima collezione scaricabile a pagamento da Steam denominata Final Assault, che comprenderà 5 mappe multiplayer, tra cui The Commission, Offshore, Boardwalk, Gulch e Parish Bene, senza perdere altro tempo andiamo a visualizzarle, naturalmente in ordine rispetto a come le ho postate sull'immagine principale Questa volta ho avuto tempo di piazzare varie telecamere in giro per le mappe in modo da darvi questa bellissima visuale dall'alto Come potete notare in The Commission c'è la presenza di una quantità enorme di navi transatlantiche, tutte sfondate Saranno navi che hanno fatto la loro storia, che poi sono state depositate qui ad arrugginire insieme a vecchie casette Comunque questa mappa promette veramente delle rosicate assurde Come potete notare avrete accesso dappertutto, ci sono scalette da tutte le parti Vabbè, c'è divertimento assicurato per i camperoni Passiamo alla seconda mappa, Offshore Qui veniamo direttamente catapultati in mezzo all'oceano su una piattaforma petrolifera Che diventa scenario di battaglia all'insegna di vere e proprie raffiche di piombo La planimetria del posto si sviluppa su tre strutture principali Che fanno da vertice una sorta di triangolo in cui vi è la presenza di multiple pedane sospese sull'acqua Naturalmente senza alcuna protezione, quindi sarà molto facile cadere in acqua se non si farà la dovuta attenzione Con questa visuale è già facile capire come questa mappa potrà essere facilmente governata da cecchini esperti Che saranno favoriti dalle varie posizioni privilegiate Ok, adesso passiamo pure alla terza mappa Boardwalk Che si sviluppa sulle coste del Jersey Il luogo è abbastanza degradato a causa di un bombardamento nemico Infatti la cosa che salta molto all'occhio è proprio questa macchina bianca con questo fiocco rosso Che non è stata proprio toccata né distrutta Cioè, strano Vabbè, qui sulla spiaggia ci sono alcuni veicoli militari inceneriti E poi la presenza di una sala giochi dove sarà possibile fare degli agguati al nemico E ecco, proprio da questa visuale è possibile notare come le persone in prete al panico Siano scappate abbandonando i propri beni E qui notiamo altri veicoli militari di soccorso naturalmente Che saranno arrivati dopo la tragedia Nella mappa Gulch ci ritroviamo in una città mineraria abbandonata Circondata dalle montagne Caratterizzata dalla presenza di spazi aperti abbastanza ampi Che rendono difficile il determinarsi in una copertura efficace Più avanti è possibile notare come il fiume tende a spezzare e a dividere la mappa in due parti In cui, diciamo, credo che proprio questo fiume vada a delimitare il punto in cui si svolgerà il grosso dell'azione La mappa colpisce sicuramente dal punto di vista visivo Per come è stata strutturata È possibile intuire un qualcosa del vecchio West Ma non è tutto riguardo questa mappa Ogni tanto anche l'Infinity World cerca di divertirsi un po' E infatti possiamo notare Andando un po' più avanti Ecco qua Cioè Un bellissimo orsacchiotto Seduto su una roccia Chissà, eh Come ci sarà finito qui sopra E certo che possiamo dire che Gode veramente di un bellissimo panorama Ma non è solo questo che hanno inserito, miei cari E infatti Eccolo qua Questo bellissimo cactus con questo fiorellino rosso Di solito lo si vede nei cartoni E adesso non solo lì Sarà possibile vederlo pure in questa mappa E ritorniamo a noi Quindi come ultima mappa Abbiamo Parish In cui prepareranno senza dubbio i giocatori capaci di fare un buon uso di shotgun Piuttosto che armi a lungo raggio o fucili da cecchino Infatti per rendervi di più l'idea Ho preferito farvi vedere la mappa in prima persona In modo da rendervi conto di come è strutturata Beh, gli armamenti non mancano per le strade Come potete notare ci sono parecchi missili Qui infatti ci ritroviamo in un quartiere francese di New Orleans Devastato da conflitti bellici Di chissà quale portata Il campo di battaglia presenta Come potete notare Distruzione ovunque In questa mappa diciamo che Si è quasi costretti al run and gun Scattando senza sosta E far fuori chiunque La presentazione della quarta collezione Final Assault Di Call of Duty Modern Warfare 3 Si conclude qui Spero tanto che questa breve illustrazione Sia stata chiara E naturalmente di vostro gradimento Ci sentiamo Ciao ciao